E' stato fissato per il prossimo 13 aprile il processo corrito immediato per uno dei due pusher che si trovavano con Sara la notte in cui perse la vita per un overdose all'interno di una villetta accesa in Val di Chiana. L'uomo di origini marocchine ma residente ad Arezzo era stato rintracciato dai carabinieri nei mesi scorsi, era così finito in carcere. Tra pochi giorni sarà giudicato a quasi un anno di distanza dalla morte della ragazza. Il magrebino trascorse con Sara le ultime ore della sua vita assieme ad un altro amico del quale gli inquirenti stanno ancora cercando le tracce. L'uomo è accusato di cessione di droghe e di morte in conseguenza di un altro reato. Sara, residente a Sansepolcro, figlia di una coppia magrebina, qualche giorno prima di morire lasciò la struttura di città di Castello nella quale era ospitata per disintossicarsi. Incontrò così degli spacciatori a retini che conosceva, li seguì in una casa affittata per un paglio di giorni. Venne ritrovata la mattina dell'11 marzo scorso dalla proprietaria della casa, riversa sopra ad un letto avvolta solo in un asciugamano senza vita. Nell'abitazione furono trovati residui di marijuana fumata, bottiglie di birra e una confezione vuota di antidepressivi. Fu così dispossa dal PM Angela Masiello l'autopsia che chiarì la cause della morte, un mix letale di sostanze stupefacenti, farmaci ed alcol. La famiglia da un anno chiede giustizia per la ragazza, si costituirà parte civile.